Volevamo ricordare a tutti i presenti che quella che oggi chiamano Le Meloni, 34 mesi prima dell'insegnamento di Giorgio Meloni la chiamavano Rai Demma. Non so se ricordate quando pubblicarono l'organigramma del potere del PD in Rai. La chiamavano Rai Demma, oggi la chiamano Rai Meloni. Il piattino continua, il gioco delle parti, il poliziotto buono e il poliziotto gattivo per prendere per i fondelli gli italiani. Qual è la differenza di un TG Rai, della Meloni da un TG Rai del PD su temi come l'Ucraina, su temi come l'Israele, su temi come l'Unione Europea? Si prendono per i fondelli, Rai Demma prima, Rai Meloni oggi, è una presa per il pulo, è una presa per i fondelli. Non avvocate, la Shrine e il PD che vogliono manifestare contro la disinformazione nematica. Siamo veramente ridicoli, la Shrine che manifesta contro la disinformazione e contro l'utilizzazione di Rai, è ridicolo! Vattene! Ridicolo! Le scende di mezzogna per aver organizzato la porta del PD. Vattene! Mettila! la devi piantare, devi facere, dai zitto, imbecille, retico, rompi palle, la devi piantare, a te, vai via, vedi quel cazzo di microfono, ha ragione, bravo, 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 e rega, e rega, 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 rega,